Noi abbiamo avuto un nuovo provvedimento di legge che ha imposto agli Ateneti non far pagare gli studenti che hanno un ISEE tra 0 e 13 mila euro. E noi stimiamo che siano 4.700 quegli studenti che si troveranno in queste condizioni e che quindi a quest'anno non pagheranno più le tasse. Così come 4.000 a cui si aggiungono 4.000 che sono quelli storici, quelli che già percepiscono la borsa di studi e che non pagano la contribuzione studentesca. E poi coloro i quali avranno un ISEE tra 13.000 e 30.000 euro hanno sostanziali riduzioni perché pagheranno solo il 7 per 1.000 di tale valore differenziale. Ciò significa fondamentalmente che ci saranno ben 800 che pagheranno meno di 100 euro e 2.000 circa che pagheranno meno di 200 euro. Quindi un sostanziale abbassamento per oltre 12.000 studenti, un terzo del nostro Ateneo. E devo dire che purtroppo, come spesso accade in questo Paese, nel prevedere questa nuova misura che è totalmente corretta sia dal punto di vista etico sia dal punto di vista dell'opportunità, il Ministero nel fare lo stanziamento di bilancio non ha previsto cifre adeguate per gli studenti. Per cui è chiaro che questo tipo di misura, che ripeto è giusta e giustissima e che sottoscriviamo, è stata fatta in gran parte con un aggravio dei costi da parte dei mancati incassi da parte dell'Ateneo. Infatti molto Ateneo, come pure si è letto nella stampa, hanno reagito aumentando in maniera sensibile la contribuzione studentesca agli altri studenti che non ricadevano in questa previsione di legge. Noi non l'abbiamo fatto, perché non era giusto. Era giusto far risparmiare gli uni, ma non era giusto far gravare sugli altri questo tipo di misura ministeriale. L'abbiamo fatto chiedendo soltanto un piccolo contributo che certamente non copre quello che è il minore incasso per l'Ateneo. L'abbiamo fatto prevedendo degli aumenti contenuti tra i 50 e i 150 euro massimo nella fascia più alta e peraltro senza nessun aumento specifico per i fuoricorso, perché anche questo sembrava essere una misura punitiva.